E' uno! Il primo strato protettivo del nucleo di Lyok è appena andato perso! Ellie, dove sei? Sono nei guai! Agrida ha detto di seguire i ragni. Sì, che ne sono mai. Alla prossima! Sì! Cosa! 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 Grazie a tutti. 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 Per dimine. Grazie a tutti. Incentivo. Albus silente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.